Anche Arezzo ha celebrato la Festa della Musica promossa dal Ministero dei Beni Culturali. Ad Arezzo ancora una volta è diventata il Guido Day in omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Guido D'Arezzo, ideatore della scrittura musicale. Ricco il programma di appuntamenti che sono stati tutti ad ingresso libero, pensato per valorizzare le tante diverse espressioni della cultura musicale che anima l'intero centro storico. Abbiamo concerti per tutto il pomeriggio tra San Michele, il Corso Italia, San Francesco, la Pieve, la Casa della Musica e si concluderà Petrarca come di consueto. Dopo l'esibizione delle scuole di musica del territorio nella chiesa di San Michele, sul palco la scuola di musica Sette Note, il liceo musicale Francesco Petrarca e la scuola di musica Dima, nella sede di Camu, Casa della Musica, il violino di Stefano Fagugli e il pianoforte di Giulio Potenza sono stati i protagonisti di un concerto che ha proposto le musiche di Schumann, Schubert e Janacek. Suona mio figlio Stefano Farulli, l'ho portato perché è un tipico esempio di un ragazzo che sta facendo una grande carriera all'estero, in particolare a Berlino, accompagnato da Giulio Potenza, un ragazzo che ormai insegna anche nel Regno Unito, una coppia straordinaria che io ho creduto di dover portare qua a dispetto del cognome pesante. Poi la Guido Dei si è spostato nella chiesa di Santa Maria della Pieve per uno spazio musicale dedicato a corti ed ensemble che ha visto alternarsi sul palco, la corale Banchetti di Capolona, l'ensemble giovanile Crom e Cromatismi con direttore Benedetta Nofri, l'insieme vocale Turdion, l'insieme vocale Vox Cordis e Viscantus. La musica in movimento con il gruppo musici della giosta del Saracino ha portato le sue note in Piazza San Jacopo, Corso Italia e Piazza San Michele. Piazza San Francesco si è offerta come il palcoscenico per la filarmonica Guido Monaco diretta da Matteo Trimigno, il gruppo musici della giosta, il jazz club Arezzo e Oma, orchestra multietnica. La musica quando è fatta insieme, come nel caso di oggi, la filarmonica che vediamo qui, l'orchestra multietnica con cui abbiamo appena suonato, è qualcosa che insegna una note fondamentale, che è la dote dell'ascolto. Gran finale al Teatro Petrarca, dove al liceo musicale Francesco Petrarca di Arezzo, al quartetto Euforia, è stato consegnato il premio internazionale Guido d'Arezzo, prestigiosa opera realizzata da Alessandro Marrone, che la fondazione Guido d'Arezzo conferisce a istituzioni o persone che hanno acquisito grandi meriti nel mondo della musica. In una città della musica che ormai si è voluta consolidare come Arezzo, capitale della musica e della formazione musicale, questa è una dimostrazione di un'affezione ormai profonda, che credo la Giunta Ghinelli abbia intenzione di continuare e che ha segnato certamente questo primo mandato.